In occasione del 35esimo anniversario della benedizione e dell'incolorazione del quadro settecentesco raffigurante la Madonna dell'Avvocatella da parte del Santo Padre Giovanni Paolo II, domani, giovedì 21 gennaio alle ore 17.30, l'Arcivescovo della Diocesi Amalfi Cava dei Tirreni, Orazio Soricelli, aprirà la Porta Santa della Misericordia anche al Santuario dell'Avvocatella di Cava dei Tirreni. Dopo la Santa Messa preseduta dallo stesso Arcivescovo, si rinnoverà il tradizionale appuntamento mensile con una stella a Maria, con lo scoprimento del quadro originale della Madonna dell'Avvocatella. Tra le particolarità di questo anno santo indetto da Papa Francesco è che si tratta di un evento diffuso poiché non sarà necessario recarsi a Roma per ricevere l'indulgenza plenaria. Il Pontefice, infatti, ha stabilito l'apertura di più porte della misericordia in ogni diocesi del mondo. Nella città metelliana è la terza, dopo quella della concattedrale e dell'abbazia benedettina. Retto da Don Gennaro lo Schiavo, il Santuario dell'Avvocatella ogni giorno emeta di numerosi pellegrini che provengono non solo dalla campania ma anche da ogni parte del mezzogiorno. Retto da Don Gennaro Grazie.